La promozione della pace e la lotta al terrorismo, l'importanza del dialogo interreligioso. Sono stati questi i temi al centro dell'incontro in Vaticano tra Papa Francesco e il Presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, Hassan Rouhani. Nel corso dei cordiali colloqui, rende noto la sala stampa vaticana, ci si è soffermati sulla conclusione e l'applicazione dell'accordo sul nucleare e si è rilevato l'importante ruolo che l'Iran è chiamato a svolgere insieme con altri paesi della regione per promuovere adeguate soluzioni politiche alle problematiche che affliggono il Medio Oriente, contrastando la diffusione del terrorismo e il traffico di armi. Alla riguardo è stata poi ricordata l'importanza del dialogo interreligioso e la responsabilità delle comunità religiose nella promozione della riconciliazione, della tolleranza e della pace. Grazie a tutti.